Siamo a Somma Vesuviana e una gazzella della locale stazione sta percorrendo le strade della città che si trova nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio. La giornata è calda e tranquilla mentre la pattuglia gira via del colle. Nella strada immersa nel verde però i carabinieri notano dei lavori in corso da parte di alcuni mezzi pesanti. È domenica ed è bene approfondire. Da sottosuolo affiora un'ingente quantità di difiuti. La movimentazione del terreno viene interrotta e sul posto arrivano anche i carabinieri forestali di Ottaviano. Dagli accertamenti emerge che erano in corso dei lavori di ampliamento dei capannoni di una ditta adibita alla lavorazione dei metalli. Vengono rinvenuti rifiuti speciali non pericolosi, ferro, materiali di risulta di demolizioni e miscele bituminose che erano stati nel tempo accantonati lì. L'area è grande circa 10.000 metri quadrati ed è stata sequestrata. Denunciati per gestione smaltimento illecito dei rifiuti, l'amministratore unico della società, un architetto, un imprenditore e un operaio.